Let's go ladies and gentlemen e benvenuti a quella che è l'ultima giornata di streaming di Natale, offerta anche da Blizzard, mi potete trovare infatti sulla home del Battle.net di Overwatch. Quindi ragazzi facciamo quest'ultima giornata, quest'ultima serata assieme, mi trovate online da prima delle 9 fino a mezzanotte per festeggiare assieme questo Christmas Eve. Io vi saluto ragazzi, sono il vostro buon power di frontiere, il mondo ha sempre bisogno di eroi, quindi let's go baby!